La Filt CGL Abruzzo ha proclamato lo stato di agitazione del personale di Tua, l'azienda unica del trasporto regionale. A distanza di circa un anno da un'analoga procedura attivata in quella circostanza per denunciare una serie di violazioni contrattuali e per criticare la gestione maneggeriale, il sindacato torna a riprogrammare una fase di conflittualità. La Filt CGL in una nota attacca duramente i vertici aziendali, affermando di non aver mai immaginato che nell'arco di un triennio si arrivasse addirittura a peggiorare le pessime esperienze e condizioni del passato che spinsero il legislatore ad accelerare il processo di aggregazione delle società regionali di trasporto. Oggi nella Tua, continua il sindacato, persevera un atteggiamento arrogante e discriminatorio in modo specifico nei confronti di quelle rappresentanze sindacali che osano manifestare dissenso e critiche all'operato aziendale. Per quanto riguarda invece i lavoratori, la Filt CGL lamenta pesanti tagli in busta paga con le maestranze che si sono viste sottrarre l'erogazione del premio legato al positivo risultato di esercizio. Il sindacato lamenta anche la mancata erogazione di quanto previsto nell'accordo integrativo regionale del 2004 con una perdita economica per ogni lavoratore quantificabile in circa 1800 euro lordi. La Filt CGL inoltre è critica anche sul versante dei servizi offerti ai cittadini parlando apertamente di una situazione indubbiamente peggiorata sotto tutti i punti di vista dalle interruzioni e soppressioni dei servizi per carenze di personale e di mezzi e per guasti in linea alla vetustà e pulizia dei mezzi fino alle carenze organizzative. E del tutto evidente, conclude la nota, che l'unica cosa che rimane da fare per un'organizzazione sindacale che faccia il proprio dovere e alzare il livello di attenzione di conflitto.